Il PD locale oggi denuncia un'inadempienza secondo voi di questa amministrazione, in un anno non si è mai parlato di PRG e con un'interrogazione voi volete sapere sostanzialmente a che punto è il percorso e soprattutto se il vecchio documento preliminare della vecchia amministrazione Cialente per loro ha qualche valore o è tutto da rifare? Il discorso è questo, noi abbiamo presentato un'interrogazione, non ci interessa di fare polemica su questa vicenda perché è un nodo centrale per il futuro della città, il punto è semplicemente che fine ha fatto il percorso sul piano regolatore perché il percorso sul piano regolatore è una cosa ben precisa, consta di quattro fasi, prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle sue varie articolazioni, frazioni, quartiere, le rappresentanze della città eccetera ma soprattutto è evidente che è un percorso che appunto richiedendo il coinvolgimento dei cittadini prevede lo stimolo di un dibattito, ora questo dibattito è scomparso, cioè il tema del PRG è proprio scomparso dai radar, è un anno e mezzo che non se ne sente più parlare Io ho anche recuperato delle dichiarazioni che ha fatto nell'ottobre del 2017 l'assessore Deramo che parlava di un'approvazione, quindi del compimento del percorso nel giro di 12-15 mesi, i 12 mesi sono scaduti ma parliamoci chiaro nessuno pretendeva o si sarebbe aspettato che approvassero nel giro di un anno, un anno e mezzo il piano regolatore, non ci mancherebbe altro ma che però in questo anno e mezzo non si è neanche per sbaglio una volta sentita la parola PRG da parte dell'amministrazione è molto grave Noi in queste interrogazioni chiediamo come intendono riattivare il percorso, che fine ha fatto il percorso? Rispetto al documento preliminare al PRG, cioè a un lavoro avanzato già di ipotesi sul piano regolatore che lasciava in eredità l'amministrazione Cialente si ritiene si debbano fare modifiche, se sì quali, lo si vuole dire alla città e in quali tempi loro immaginano di riattivare il percorso cioè noi vogliamo soltanto essere messi a conoscenza come cittadini di quella che è l'impostazione che ritiene di mettere in campo l'amministrazione tenete conto fra l'altro che c'è anche una questione, ci sono alcuni nodi centrali, penso al tema del progetto case penso alla questione dei manufatti che sono stati, le casette di legno che sono state fatte dopo il terremoto sono tutte cose che non si possono affrontare spot purtroppo registriamo che c'è la tendenza di questa amministrazione a tirare a campare cioè esplode una questione, esplode il caso Ponte Belvedere, ci si concentra su quello, si lancia un'ipotesi annunci, proposte, dopodiché si sgonfia il caso e tutto resta a lettera morta noi abbiamo bisogno di procedere a una pianificazione, basta con il governo giorno per giorno basta con il governo alla giornata, si riavvii un processo importante, largo che coinvolga tutta la città attorno allo strumento cardine della pianificazione che è il piano regolatore